ciao ragazzi allora vedete le mie mani inquadrate non vedete la mia faccia e vedete che sono qui con una scatola misteriosa che in realtà è una scatola per il mio compleanno non mi sto filmando in faccia perché è mattina sono struccata però mentre stavo diciamo aprendo questa scatola regalo del mio fidanzato tra l'altro ho detto voglio filmare voglio insomma voglio fare un unboxing con voi che vi metterò penso su youtube e quindi niente vediamo se riesco ad aprire questa scatola ho detto sì devo filmarla la cosa ora spero di non ammazzarmi qua col discorso forbici cose e tutto quanto e vediamo un po cosa c'è dentro poi ovviamente vi taglio le parti se vado per le lunghe nell'unboxare ma sono troppo curiosa ragazzi sono troppo curiosa non ho la più pallida idea di cosa ci possa essere dentro sinceramente ma vedremo ragazzi è un parto sta cosa ecco qui finalmente spero che non devo aprire altro ok questa ragazzi una polaroid ma è questo aspettate è una polaroid eccola qua no allora oddio e qui cosa c'è sono un po confusa è bellissimo è bellissimo grazie grazie ok poi lo ringrazio in maniera adeguata intanto però devo aprire questa scatola con voi e mantenere quel minimo di dignità come si apre questa scatola così poi sono curiosa anche qui cosa c'è oh oddio dovrò fare subito le foto qualcosa devo fare aspettate aspettate allora vediamo se mi raccappezzo sì devo aprire qua così ragazzi sto cercando di fare le cose tutte in maniera delicata bene e non è esattamente facile questi non so cosa siano però insomma lo scoprirò immagino immagino che lo scriverete anche voi nei commenti ok le batterie giustamente ora devo riuscire a ora devo riuscire ad aprire un po tutto cioè sono un po agitata ragazzi scusate allora che bello oddio è bellissima è bellissima è bellissima è bellissima è troppo bella troppo bella guardate no no è stupenda è bellissima sì ditemi cosa ne pensate nei commenti io la adoro mi piace davvero troppo sì penso che oggi scatterò un bel po' di foto le foto dovrebbero uscire appunto da qui belle pronte credo che si possa impostare anche qualche filtro non me ne intendo tantissimo quindi dovrò vedere un po' le impostazioni quello che è però esteticamente è bellissima e credo che faccia anche delle belle foto questa fotocamerina qua e adesso vediamo cosa c'è in questa mystery box chiamiamola così allora ecco giustamente qui è ben legato e quindi dovrò tagliare magari con la forbici tra l'altro forbici un po' arruggini c'è ragazzi che professional che professional aiuto aiuto non so se si vede col poncio addosso spero che non si veda spero che non si veda non filmarlo spero che si vedano solo le mani perché c'ho freddo e comunque per voi ho sempre 25 anni eh non chiedetemi l'età ah giusto queste sono giustamente le come si chiamano le cartine insomma da mettere qua dentro giustamente vediamo quante sono 10x2 10x2 quindi 20 perfetto ragazzi insomma questo era l'unboxing non so se vi aggiungerò anche una parte con la mia faccia quando sarò trucchetta sistemata può darsi comunque veramente sono felicissima intanto vi mando un bacio vi saluto e niente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti ciao